Sara Sirelli, questo argento olimpico significa anche l'accesso alle Paralimpiadi di Tocchio 2020. Cosa provi e come lavorerete adesso con la squadra per questo appuntamento fondamentale? L'emozione adesso è incredibile, nonostante la sconfitta con la Russia, però il secondo posto era quello che volevamo, era lo nostro obiettivo di tutto questo percorso, di questi sei mesi di preparazione veramente intensa e siamo entusiaste, siamo entusiaste e adesso continueremo secondo me a lavorare così come abbiamo fatto in questo periodo. perché il lavoro è soltanto e si è visto, si è visto in campo, penso, grazie anche all'obiettivo che abbiamo ottenuto, quindi il lavoro continuerà, è ancora più carico, è ancora più pronto per il prossimo anno. Grazie.